Voglio dire che stamattina mi sono svegliata benissimo perché non vedevo l'ora, infatti mi sono svegliata prima di tutti. Quasi 250 bambini e 38 insegnanti sono stati premiati nell'ambito della sedicesima edizione del concorso Tanti Geppetti, Tanti Pinocchi, che si è tenuto nel giardino di Villa Garzoni a Collodi, organizzato da CNA Pensionati Toscana in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pescia. È più quello che impareremo noi dai bambini di quello che insegniamo loro. Infatti basta dare anche una rapida occhiata agli elaborati che sono in mostra per capire come la naturalezza per quanto riguarda l'inclusione sociale e per quanto riguarda il rispetto ambientale che loro ci trasmettono, mentre per noi è ancora motivo di attenzione ma anche di apprendimento. Ancora noi ci dobbiamo un po' applicare a questi valori. Una manifestazione che ha voluto coinvolgere le giovani generazioni con quelle meno giovani. Il tema di questa edizione è stato la costruzione di un futuro migliore, più verde e più inclusivo. Le bambine e i bambini delle scuole della Toscana hanno così realizzato disegni e lavori creati con materiale di scarto. Il tema di quest'anno ci è particolarmente a cuore perché abbiamo voluto dare un messaggio del concorso riferito alla sostenibilità del pianeta, quindi la costruzione di un futuro migliore, più inclusivo e più verde. Otto sono state le scuole che si sono aggiudicate i premi in palio. La scuola infanzia Arlegno Rosso di Pistoia, la primaria San Giovanni Battista di Bagnarripoli in provincia di Firenze, la primaria Virgilio di Abbadia Acquaviva Stazione di Montepulciano in provincia di Siena, la primaria Beatrice di Pian degli Ontani, la scuola primaria Gianni Rodari di Pistoia, la primaria Carlo Sabatini di Istia e Dombrone in provincia di Grosseto, la scuola primaria Fabio Filzi di Prato e la primaria Moneti di Camucia in provincia di Arezzo.